Cento italo-discendenti canadesi hanno fatto tappa nella provincia pesarese riannodando i rapporti con le loro origini marchigiane riscoprendo luoghi, sapori, tradizioni e cultura delle proprie radici. Una spedizione costruita sul progetto Migrazioni Sonore che si è focalizzato su Pergola dove nei giorni scorsi è arrivata una nutrita delegazione del Quebec replicando quanto avvenuto a Frontone la settimana precedente con un analogo gruppo di italo-discendenti belgi. Migrazioni Sonore è un progetto di internazionalizzazione della cultura italiana e da tanti anni frequente paesi francofoni dell'Europa e del Nord America. Un progetto che si è concretizzato a Pergola dopo una tappa a Pesaro capitale della cultura con tanto di presentazione ai musei civici di un'iniziativa volta a valorizzare la memoria dei fenomeni migratori. Focus della visita è stata Pergola con il suo museo dei bronzi dorati e il teatro Angel dal Foco in un percorso sostenuto da artisti come Marco Cagliari e ambasciatori del gusto come Hotel Lorenzi e lo chef stellato Stefano Ciotti oltre alla presenza di tipicità quali tartufo pregiato di Pergola, visciolato Visner e maccheroncini di Campofilone. Tutta una serie di soggetti che ci aiuteranno a far rivivere la radisce marchigiana a queste persone che sono italofile in tanti casi imparentate o amiche di italiani e quindi curiose di scoprire e di approfondire la cultura italiana ma in altri casi sono proprio discendenti che tornano a rivedere la loro terra, l'Italia e a cercare di ristabilire un rapporto con la contemporaneità e non limitarsi al ricordo di quando dall'Italia sono partiti o addirittura quando erano partiti i loro nonni e i loro padri. Genitori miei pesaresi, mia mamma Montemaggiore al Metauro, mio padre Calcinelli di Saltara, allora oggi sono tornato alle mie radici e sono fiero di essere qui a Pesaro per questo evento molto importante, questo legame che proviamo di fare con Montreal e noi nella nostra comunità Montreal abbiamo mantenuto la nostra cultura, la nostra lingua, le nostre tradizioni. Oggi siamo qui per creare questo ponte con Italia Marche e Casa d'Italia per gli italo-discendenti italiani marchigiani in Canada. Allora questi sono progetti che uniranno i due paesi per ritrovare le proprie radici, per ritornare nei luoghi inattivi dei genitori e dei nonni, anche per quegli itali o canadesi che non parlano più di italiano, che non hanno più un legame con nessuno perché cosa vuoi quando esploriscono i nonni e i genitori si sente il desiderio di ritornare nella propria terra.